Senatore Sergio Divina, i comuni di confine fanno più fatica rispetto agli altri paesi, per questo motivo lei chiede che venga allentato il patto di stabilità? Ci lavoriamo da anni sulla questione e siamo riusciti a ottenere due fondi importanti che attenuino le differenze che ci sono tra i comuni delle province e regioni normali, che confinano però con regioni o province autonome. Il rischio è lo spopolamento, il rischio è che i servizi siano molto diversi, la qualità della viabilità delle scuole, delle mense scolastiche eccetera eccetera, faccia sì che famiglie giovani, vista la differenza, si spostino. Dopodiché ci sono questioni di impatto, sono territori per lo più montani, sono a cavallo dell'arco alpino, hanno le difficoltà delle aree più o meno, non dico depresse, ma comunque periferiche che faticano. Siamo riusciti a farli ottenere due fondi, il fondo Odi e il fondo Letta e l'assurdità è che oggi il patto di stabilità ha fatto sì che avessero dei contributi, li hanno già incamerati, sono già in cassa, ma il patto di stabilità gli vincola a non poterli spendere. A questo punto è un circolo vizioso che riconosce le difficoltà di questi enti, trovi le risorse, eroghi queste risorse, gliele impedisci addirittura, gli impedisci di spenderle. Abbiamo parlato con il ministro D'Arrio e con il sottosegretario Ferrazza che sono tra l'altro tutti e due sindaci, conoscevano le problematiche che hanno tutti i comuni, in particolar modo questi, medi e medi o piccoli, ci siamo impegnati su un percorso che trova lo svincolo, dal momento che sono fondi tampone per la sperequazione territoriale, questi qua dobbiamo fare in modo da farli uscire da quelli che sono i parametri che calcolano la spesa standardizzata e il patto di stabilità dei comuni. Siamo usciti tutti ragionevolmente soddisfatti, speriamo adesso che il ministro dia attuazione velocemente a queste promesse che per intanto si è impegnato a risolvere. Grazie 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 Grazie